In mano una crescita più forte abbiamo bisogno di fare due cose, abbassare le tasse perché la pressione fiscale è troppo alta, abbiamo cominciato l'anno scorso con 18 miliardi di riduzione fiscale, abbassare le tasse e fare più investimenti, cioè far ripartire il motore degli investimenti nelle nostre città, nel nostro paese e permettere anche agli imprenditori di fare più investimenti. Che timing avrà questa discussione con Bruxelles?